Questo tempo gioco che vi accoglie qui in Valle d'Aosta chiedo voi tutti il massimo rispetto, il massimo per te e il desiderio rispetto di tutti e le persone che stanno con voi lungo il passato, è un viaggio che va al finito Rupoi e pommahai Vi confermo quello che è il tracciato di gara vi confermo il tuo parkour che io ho preso a giù con il big partenza è dunque confermata qui dalla scena di bondage alle 8 in punto partirete con le pelle di fuoco al primo salto Mettuali 400, 416 Giù de Vande, De Ferrompana Per favore un passo indietro in modo da lasciare la prima linea agli atleti di Coppa del Mondo Uno sforzo immenso a livello di sforzo profuso in queste giornate da parte dello ski club un grazie a tutta la comunità di Val Ghisansha a quella di Ervie a tutti i volontari, circa 200 persone impegnate in queste giornate lungo i taciati di gara stanno arrivando i big in partenza c'è tra gli altri Matteo Jacquemus il francese, il leader del circuito della grande course con lui quest'oggi di tedesco una brillante stagione per le due stanno arrivando tutte le squadre di Coppa del Mondo l'invito al Tessi a portare rapidamente il controllo Arva sulla seconda e terza linea di partenza mancano in questo istante circa 7 minuti al via della prima tappa del tour di Tor 1000 estrem Giù su via, maintenant gli ancora 7 minuti avanti le departe della course 7 minuti start ultimi dunque preparativi per il controllo Arva e poi il via di questo lungo viaggio condizioni meteo lungo il tracciato visibilità che al momento è buona nella parte bassa del tracciato vi sono nuvole basse nella parte mediana e alta del tracciato vi chiediamo la massima prudenza nei tatti in discesa in particolar modo sulla discesa che dal valore di Felema porta verso Mondange a beneficio del pubblico avremo il passaggio di fatto di tutte le squadre in prossimità di quella che sarà la linea del traguardo vi ricordo avremo al Tessi la Flavere Ceremoni sia per la prova assoluta in ambito maschile sia per quella femminile e nel pomeriggio alle 17 ricordo il live streaming scchiate in prima linea le squadre di Coppa del Mondo vi è una notita presenza anche delle squadre svizze che si stanno allenando al meglio a fare la patroia dei glaciers E poi grazie, grazie di esserci, voi che siete il cuore e l'essente di questo lungo viaggio. Grazie a tutti. 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 Bravi, bravi. Le pelli le mettete su. Qua? No, su sopra. Ci in mano, 200 metri, mettete le pelli e via. Grazie a tutti. Bravo. Grazie a tutti. 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 Marco, guarda! ... 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 Io ho filmato un video. E poi in spruzione. E poi in spruzione. E poi in spruzione. E poi in spruzione. Marco, bravo, bravo! Ok, ok! Grazie a tutti. Dritto, 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 dritto. I svizzari sono. Un minuto abbondante. I svizzari sono. 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 I svizzari sono.